Un'alta sinergia Commento È uno stato di coscienza in cui cadono gli strumenti che condizionano i fenomeni che si verificano durante le riunioni. Si fa sempre più strada il principio secondo cui una riunione medianica non può comprendere da un lato i presenti in atteggiamento di osservazione distaccata e dall'altro lo strumento da scrutare. I maestri immateriali ripetono che perché una riunione medianica possa esprimersi qualitativamente c'è bisogno di un'alta sinergia del gruppo che è l'unione di tutti i partecipanti alla riunione. Grazie a tutti.